Daylight Stalker di Angelo Zottoli, Vincenzo Cervoni, Alex Massimilano Treia continua appunto il discorso dell'estetica splatter pura e semplice è sicuramente un cortometraggio estremo in questo senso anche in maniera nuova o almeno seguendo alcune tracce tanto è vero che questo cortometraggio è dedicato a Carpenten, Tarantino o Rodriguez però verrebbe appunto da ricordare anche altri autori come Ferrara, Bigelov che hanno usato moltissimo questa scopertura del vampiro questa totale immersione del vampiro nella luce è diurna quindi totalmente in contrapposizione con tutta una tradizione di vampiri al buio e naturalmente anche il riferimento a Rodriguez e a Tarantino vale come materia splatter sempre in movimento buona visione